Va bene, grazie, grazie Sara per questo bellissimo e chiarissimo intervento. Io, ecco, sembra giusto, non posso applaudire perché ho il microfono. Gioco forza, insomma io ripeterò alcune delle cose che sono state dette e spero di farlo con parole diverse. Insomma è chiaro a tutti che questo gender è un tema incandescente nell'attualità di oggi in tutto il mondo, come ci ha detto Sara, in particolar modo in Francia, in Italia, in Veneto e a Verona dove io insegno. Quello che vorrei fare nel mio intervento, che ha un carattere introduttivo, forse meno specialistico di quello di Sara, vuole essere quello di, forse qui non è necessario, però insomma di sgomberare il campo dal panico che è stato alimentato ad arte attraverso questo concetto attorno agli interventi di educazione sessuale nelle scuole, degli interventi di educazione al rispetto delle differenze sessuali e dell'educazione antidiscriminatoria, diciamo. Quello che vorrei fare brevemente è rispondere a una serie di domande. Io ho preparato cinque domande, cinque risposte, forse sono troppe, vediamo dove riuscirò, insomma, con i tempi fino a dove riuscirò a pronunciare questo mio intervento. Le domande sono che cos'è la teoria del gender, che in parte la risposta ce l'abbiamo già, che cosa significa invece genere, che cosa sono gli studi di genere, e poi se ci sarà tempo risponderò di nuovo a delle domande che in parte in realtà hanno già avuto risposta, che sono quali sono gli scopi di chi utilizza gli studi di genere per elaborare programmi educativi e quali sono gli scopi di chi invece si oppone alla teoria del gender. Quindi, prima domanda, che cos'è la teoria del gender? Allora, le risposte possibili sono almeno due e ne abbiamo, almeno tre forse, ne abbiamo già viste tutte e due. Prima Loris diceva che la teoria del gender non esiste, quindi che cos'è la teoria del gender? Nulla. Ecco, nulla, non lo dice solo Loris, lo dicono molte associazioni di specialisti anche italiane, ci sono stati documenti dell'Associazione Italiana di Sociologia, dell'Associazione Italiana di Psicologia, che sono associazioni accademiche che riuniscono i docenti di sociologia e di psicologia, che dicono che la teoria del gender non esiste. Anche Chiara Saraceno, ad esempio, che è una sociologa della famiglia illustre, famosa in Italia, è intervenuta su Repubblica dicendo che la teoria del gender non esiste. Quindi che cos'è la teoria del gender? Nulla. Questa è la prima risposta. Però com'è possibile che qualcosa che è nulla desti tutto questo panico, tutto questo movimento, insomma, di cui ci ha parlato Sara? Allora c'è un'altra risposta, secondo cui la teoria del gender qualcosa è, ed è un'invenzione del Vaticano che mobilita i movimenti tradizionalisti contro che cosa? Contro l'avanzata dei diritti delle minoranze sessuali, quindi lesbiche, gay, persone transessuali e transgender, bisessuali, intersessuali, e contro le conquiste delle donne e dei movimenti femministi. Come ci ha detto Sara, questo termine, questo lemma, teoria del gender, circola già dalla metà degli anni 90, è stato poi rilanciato dal lexicon della famiglia, questo volumone che è stato pubblicato agli inizi degli anni 2000, e poi è stata rilanciata con forza in un discorso pubblico da Ratzinger, che era un discorso con cui lui voleva contrastare l'approvazione del matrimonio per tutti in Francia, che poi è stato approvato nell'aprile 2013. Da allora mi sembra che questa presa di posizione proprio di un Papa è stato un momento, insomma, importante, perché da quel momento poi è stato ripreso anche, non soltanto nella pubblicistica, negli articoli, ma è stato ripreso massicciamente appunto dai movimenti della Manifurtus, e dai movimenti delle sentinelle in piede e della Manifurtus italiana, che riprendono queste modalità di manifestazione che si sono inventati in Francia. Da allora appunto in Italia, io mi limito all'Italia, poi ce ne parlerà anche Leonardo, insomma si è diffusa tutta una mobilitazione contro questo concetto, e contro questo concetto vengono continuamente organizzate conferenze, seminari, in modo capillari, negli oratori, nei luoghi di aggregazione dei paesi, cioè a Verona, dipendo che è la mia città, quasi ogni fine settimana c'è un'iniziativa contro la teoria del gender. Questa teoria però non è che circola soltanto appunto all'interno degli oratori e nei posti legati alla Chiesa, ma ha avuto in Italia un forte impatto. Cioè questi stanno facendo egemonia, perché ad esempio in seguito a queste mobilitazioni sono stati ritirati questi libretti che l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale voleva distribuire agli insegnanti di tutte le scuole, dei libretti che avrebbero dovuto dare degli elementi agli insegnanti per contrastare il bullismo omofobico. Di nuovo la Ministra dell'Istruzione Giannini ha detto ultimamente che nella nuova scuola c'è un accenno alla lotta all'omofobia, ma non è la teoria del gender. Quindi stanno facendo egemonia. La Regione Veneto ha istituito la giornata della famiglia naturale contro la teoria del gender. Il Comune di Verona ha approvato una delibera contro la teoria del gender vincolando il sindaco a istituire un osservatorio per raccogliere le proteste dei genitori dove eventualmente questa teoria del gender venga insegnata. E poi il sindaco di Venezia ha fatto ritirare questi fantomatici libretti ispirati alla teoria del gender dalle biblioteche degli asili nido. Ecco, quindi che cosa si combatte? Cioè che cosa viene detto in questi convegni? Allora io per spiegarvelo cito brevemente un autore che è Tonia Natrella, psicoterapeuta, un prelato importante, che ha scritto alcune voci del lexicon di questo documento che citava prima Sara. Ha scritto proprio le voci omosessualità e omofobia e la voce riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali. Che cosa dice Natrella? Dice che la teoria del gender è una teoria anticristiana che dopo il crollo del muro di Berlino ha preso il posto del marxismo come teoria anticristiana, però mentre il marxismo è fallito la teoria del gender è riuscita a fare egemonia, dice lui, nell'ONU e nell'Unione Europea. Qual è lo scopo di questa teoria del gender? Cancellare la differenza sessuale, distruggere le famiglie naturali e tutte le famiglie, dare alle donne poteri sugli uomini e poi di diffondere l'omosessualità e la perversione sessuale nei giovani attraverso l'educazione con progetti educativi che inizierebbero subito a insegnare la masturbazione e poi dopo la mixité dei generi, insomma il transgenderismo. Ecco, che cosa c'è di vero in questo? Ben poco, ben poco. A partire dall'espressione che viene utilizzata per definire tutto questo, teoria del gender o ideologia del gender o teoria gender, che è, come diceva Sara, una patacca. Perché è una patacca? Proprio sintatticamente. Mette insieme una parola italiana, teoria e una inglese, gender. E poi usa il singolare. Allora, la teoria del gender o l'ideologia gender o teoria gender non esiste negli accademie, esistono però tante, come diceva Sara, tante teorizzazioni sul genere. Esiste anche un complesso campo di studi, anzi più campi di studi, che sono gli studi di genere e le teorie queer, che sono dei saperi accademici, che sono però un ampio dibattito critico intorno al concetto di genere. Loro usano invece il singolare. Dagli studi di genere, le teorie queer, le teorie sul genere, eventualmente, alla teoria del gender, al singolare. Proprio perché riducendo a uno ciò che invece è molteplice, danno l'impressione di un sapere coeso, appunto, di una ideologia. Ridurre la complessità a identità. Questa è la prima mossa retorica racchiusa proprio nel termine che usano. L'altra mossa è quella di usare l'inglese, di mischiare italiano e inglese. La teoria del gender. Allora, gender in italiano ha una traduzione chiarissima che è genere. Perché questi non dicono genere e dicono gender? Probabilmente, ipotizzo io, perché questo gender, sapendo quello che poi dicono intorno a questa teoria del gender, preso dall'inglese, evoca subito dei fantasmi di colonizzazione culturale. Cioè, sarebbe un'invasione teorica che viene dai perversi Stati Uniti e che colonizzerebbe invece la nobile tradizione della teoria, della filosofia, dei saperi europei. Quindi il mondo anglosassone perverso contro la civile Europa. Invece, genere esiste e tra l'altro le teorie, gli studi di genere, hanno dei fortissimi debiti verso la tradizione europea, francese, il post-stutturalismo francese, ma c'è stato anche dei contributi italiani. Insomma, non è vero che è qualcosa che viene dagli Stati Uniti a invadere l'Europa. Quindi, gender, in realtà, ha una traduzione italiana che è genere. E che cos'è il genere? Questa è la seconda delle domande a cui voglio rispondere. Dunque, genere è un concetto che è entrato nell'uso dei saperi accademici, anche nell'uso comune, da, diciamo, dalla metà del Novecento. È stato introdotto dapprima negli studi di psichiatria, di sessologia, ma poi si è diffuso in senso critico in tutta una serie di sapere, in studi storici, antripologici, letterari, giuridici, filosofici, storici e così via. L'origine, dicevo, è medico-psicologica, perché indica una delle componenti della identità sessuale. Poi si può contestare anche questa schematizzazione che adesso vi racconto, però, insomma, è quella che viene più utilizzata per definire oggi, nella nostra attualità, l'identità delle persone. Le componenti principali dell'identità sessuale sono sesso, genere e orientamento sessuale. Il sesso è l'insieme delle caratteristiche fisiche di un corpo, quindi i genitali, ma non solo i genitali di una persona, ma anche la sua conformazione fisica, quello che si chiama fenotipo, la produzione di ormoni, le gonadi, i cromosomi, tutto questo ha a che fare col sesso. L'orientamento sessuale è appunto l'orientamento, quindi il desiderio principale, la direzione principale del desiderio di una persona, che può essere eterosessuale, omosessuale o bisessuale, genere invece è appunto la, diciamo, è un concetto che non ha a che vedere soltanto col corpo, col desiderio, ma è proprio una componente di identità psicologica. E' la componente psicologica o socio-psicologica dell'identità sessuale, cioè ha a che fare con il senso di sé di un soggetto. Sentirsi uomo o sentirsi donna a secondo dell'interpretazione che questo termine uomo o donna ha nella cultura a cui uno appartiene. Quindi nella maggior parte di casi chi nasce maschio ha un'identità di genere maschile, si sente uomo, chi nasce femmina ha un'identità femminile, si sente donna, nella maggior parte di casi. Non è sempre così. Esistono, lo sappiamo tutti, persone che nascono con un corpo maschile che hanno un'identificazione femminile o persone nate con corpi femminili che hanno un'identificazione, un'identità di genere, appunto, invece. Le maschile sono le persone transessuali o transgender. Può esserci anche il caso di persone che hanno identità di genere conforme al proprio sesso di nascita, ma che hanno dei comportamenti, diciamo, che svincolano un po' dalla norma di genere. Sappiamo tutti che esistono degli uomini che giudichiamo effemminati o dei bambini che hanno dei comportamenti, dei gusti, che praticano dei giochi, che tradizionalmente vengono attribuiti al genere opposto al sesso di nascita, anche se non hanno un'identità di genere opposta al sesso di nascita. Alcuni di questi, quando succede nelle scuole, alcuni di questi bambini che hanno dei comportamenti di genere non conforme agli standard, può darsi che in futuro sviluppino un'identità transessuale o che ce l'abbiano già e la siano esperimento. Può darsi anche che abbiano un'identità o svilupperanno un'identità omosessuale. Non c'è niente politicamente scorretto di dire che spesso gli uomini gay sono effemminati o le donne lesbiche sono mascoli. Non tutte, non obbligatoriamente, ma questo può succedere. Però succede anche che delle persone eterosessuali hanno dei gusti, dei comportamenti non del tutto conformi all'identità, quella che viene riconosciuta, lo standard del genere maschile a femminile a cui si presume debbano appartenere. Ecco, che cosa succede a queste persone nelle scuole? Succede, purtroppo, che verso queste persone, ancora oggi, ancora nelle nostre società, il genere agisce come una norma e come una norma particolarmente aggressiva a cui corrispondono delle sanzioni particolarmente pesanti. Cioè lo sappiamo tutti che gli uomini effemminati vengono derisi, presi in giro, bullizzati. A scuola è molto grave il fenomeno oggi del cyberbullismo. Cioè vengono costruiti siti internet apposta per colpire dei ragazzi, dei ragazzi, dei bambini e delle bambine che frequentano le scuole. Penso che tutti ricorderete il tragico caso di Andrea. Il ragazzo, diceva, con i pantaloni rosa, la cronaca lo presentava così. Io non so se Andrea fosse o non fosse omosessuale, nessuno lo sa, perché lui non ne ha mai parlato con nessuno, sembra. I suoi genitori, che a mio avviso sono stati doppiamente vittima dell'omofobia, si sono subito affrettati a dire che a lui lui era innamorato una ragazza che non era omosessuale, quasi per volere nobilitare la sua memoria fugando il dubbio di una sua presunta omosessualità. Non è interessante sapere qua se era omosessuale o non era omosessuale. Il punto che è che Andrea piaceva vestirsi di rosa, che Andrea si metteva lo smalto protettivo per le unghie e che per questa ragione è stato pesantemente deriso nella sua scuola di Roma, è stato fatto un sito contro di lui e che alla fine Andrea nel novembre 2012 si è impiccato a Roma, in Italia nel 2012. Aveva 15 anni. Ecco, Andrea è soltanto un esempio purtroppo, perché le statistiche ancora oggi dimostrano che la maggior parte dei suicidi in età adolescenziale, anche quelli che poi non salgono agli onori delle cronache, li commettono appunto ragazzi e ragazze che vengono derisi e bullizzati per la loro non totale conformità di genere. Si dice, e non sono un sociologo, riporto delle informazioni che circolo, si dice che il tasso di suicidio è 6 o 7 volte più alto verso persone che hanno, per questi ragazzi che hanno comportamenti di genere non del tutto conformi rispetto ai ragazzi invece che hanno un comportamento di genere conforme agli standard. quindi il genere è una norma anche. Il genere è la componente socio-psicologica dell'identità sessuale, ma il genere è anche una norma e una norma che quando viene trasgredita prevede delle esenzioni piuttosto pesanti. Questo ci conduce alla terza domanda, che cosa sono gli studi di genere che in inglese si chiamano gender studies. Allora, gli studi di genere sono degli sviluppi, degli studi femministi che problematizzano, indagano criticamente proprio la norma di genere. Cioè le norme di genere. Il genere è visto come una norma culturale che sanziona le esistenze delle persone non conformi, che vivono, insomma, esprimono il genere in un modo non conforme agli standard, ma che sanzionano e discriminano prima di tutto e principalmente anche le donne stesse in quanto genere che viene presupposto come inferiore, che viene naturalizzato per usare il termine esatto della Sara come inferiore al genere maschile. Quindi, abbiamo detto, il concetto di genere nasce nella medicina, però poi attraverso soprattutto le studiose femministe si diffonde nella sociologia, nella storia, ma anche nella dottoratura, nella critica letteraria, negli studi giuridici, filosofici, antropologici e così via. Esistono tante teorizzazioni sul genere, come ha detto Sara, non esiste una, lo ripeto, teoria o ideologia del genere. Sono appunto, è un ampio campo di ricerche plurali, spesso anche in disaccordo, cioè, voglio dire, pochi autori, autrici, come le femministe, litigano tra di loro e si fanno le pulce a vicenda, c'è proprio un dibattito critico di solito che continua, e questi studi appunto sono molteplici, portano tesi differenti, però almeno su un punto concordano. Cioè, che le norme di genere, quello che una società considera appropriato per essere considerati propriamente donne e propriamente uomini, questi appunto, queste norme di genere variano nelle culture e nella storia. Cioè, è un dato banale, che lo sappiamo anche noi, cioè, le nostre figlie, chi ha una figlia, le nostre figlie vivono la loro femminilità in un modo diverso dalle nostre nonne. Hanno una libertà che prima non c'era, cioè, l'espressione di genere nella nostra società nell'arco di pochi anni, di pochi decenni, è cambiata. Oppure, tutti sappiamo che il kilt in Scozia, è una banalità, mi rendo conto, però il kilt in Scozia è un indumento maschile. Nella nostra, quindi culturalmente, in Scozia quel tipo di gonna le indossano gli uomini. In Italia, anche le gonne scozzese le indossano solo le donne. Cioè, è una banalità per dire come la cultura condiziona delle espressioni di genere. Quindi, è stata, inizialmente, agli anni 70, il pensiero femminista utilizzare il concetto di genere per denaturalizzare la subordinazione delle donne agli uomini nelle società patriarcali, per sostenere quindi che, certo, tra le donne e gli uomini ci sono delle differenze corporee, nessuno lo nega, ma queste differenze non giustificano in alcun modo la subordinazione delle donne agli uomini. Oggi si parla molto di femminicidio e sappiamo che anche, appunto, al recente Family Day, c'è chi ne ha dato un'interpretazione che magari dopo Leonardo ci riferirà. Ecco, dal punto di vista degli studi di genere, il femminicidio è una violenza di genere, o meglio, è la violenza del genere maschile sul genere femminile. È il modo in cui viene utilizzato il potere degli uomini sulle donne attraverso una norma di genere che è detta la subordinazione delle donne agli uomini. Ecco, contemporaneamente e parallelamente agli studi femministi, il genere è stato analizzato, studiato, criticato anche da una serie di teoriche e teorici lesbiche, gay, transgender e è stata poi la loro critica ha alimentato anche i movimenti lesbici, gay, transessuali, bisessuali, transgender e così via. Che uso fanno questi movimenti nel concetto di genere? Rivendicano la possibilità di esprimere il genere in modo differente dagli standard. Cioè, di essere una donna anche se sono nato in un corpo maschile, di poter essere un uomo anche se sono nato inizialmente con un corpo femminile, di definire il mio genere in un modo intermedio tra il maschile e il femminile come fanno le persone transgender, oppure di essere una donna a cui piacciono le donne anche se nella norma di genere vorrebbe definire la donna attraverso l'attrazione per l'uomo, di essere un uomo a cui piacciono gli uomini, di essere un uomo anche con alcuni comportamenti non tradizionalmente virili. Mi sembra di capire che il mio tempo sta finendo. No, vedo nei movimenti. O ce l'ho ancora? Ecco, io quello che vorrei su cui vorrei insistere è appunto che anche quando se ne appropriano di questo concetto di genere i movimenti e gli studiosi LGBT, per usare questo acronimo, lo fanno in senso critico e non dogmatico. Cioè, si viene messo in luce che le norme di genere sono cambiate nel tempo, che possono ancora evolvere nel tempo, che non esiste soltanto un modo naturale di essere uomini e di essere donne. Ma questo non vuol dire che questi teorici, queste teoriche, questi movimenti vogliono imporre alle persone eterosessuali di rinunciare alla loro eterosessualità. Certo che viene criticato il maschilismo, vengono criticati dei comportamenti stereotipati che sono dei vettori di potere. Ma nessuno vuole costringere tutti i bambini a scuola a mettersi pantaloni rosa. Quello che però viene rivendicato dai movimenti, anche da chi usa pedagogicamente il concetto di genere, è che un'Andrea, in futuro, non debba essere così avvilito nella sua identità, da rinunciare alla sua vita, perché desiderava indossare appunto degli abiti rosa. Così la stessa cosa si può dire dei matrimoni, cioè chiaramente sappiamo che dietro lo spettro del gender c'è l'idea del matrimonio omosessuale e dell'adozione o delle paternità gay e delle maternità lesbiche. Però mi sembra, è talmente assurdo dire che permettere a una coppia lesbica di sposarsi o a una coppia gay di sposarsi voglia dire cancellare le altre famiglie, che io non lo capisco, però questo viene detto. Invece nessuno, i movimenti gay magari rivendicano il matrimonio tra persone dello stesso sesso, i movimenti lesbici lo stesso, ma questo non vuol dire andare contro le famiglie eterosessuali. Questa contrapposizione viene invece costruita ad arte e appunto dagli ideologi del gender. Vado alle conclusioni. Quindi l'altra domanda era quali sono gli scopi di chi utilizza gli studi di genere per programmi educativi? In parte ho già risposto, in realtà l'idea è quella appunto di educare innanzitutto gli insegnanti, questi libretti del Lunar che sono stati poi confiscati dalla nuova ministra dell'istruzione e dal segretario Giannini e dal suo sottosegretario Toccafondi volevano semplicemente educare gli insegnanti alla tolleranza della difformità di genere. Insomma, contrastare il bullismo obofobico a scuola dando innanzitutto agli insegnanti degli strumenti per gestire, per gestire, intanto la concettualità che vi ho detto così brevemente, cosa vuol dire sesso, genere, orientamento sessuale, dare delle linee di guida di intervento per prevenire il bullismo omofobico. Cioè la mission è chiara, cioè fare in modo che un domani, un futuro Andrea, invece di tenere per sé questo segreto e questo disagio della persecuzione che subiva giornalmente nella scuola, sappia, capisca di avere un ambiente scolastico e educativo di persone che lo proteggeranno contro la violenza, che lui possa aprirsi, che possano fare qualcosa per lui. Questo è il senso delle campagne educative che vengono poi caricaturizzate come diffusione della transessualità e dell'omosessualità. Ecco, quindi invece quali sono gli scopi di chi si oppone alla teoria del gender? Ultima domanda per aprire, per poi cedere la parola anche a Leonardo dopo di me. è chiaro che i movimenti tradizionalisti che utilizzano questi concetti utilizzano i bambini, i bambini, i figli, come dei feticci per in realtà contrastare i diritti conquistati non solo da gay, in Italia ben pochi, però insomma nel resto del mondo, in Europa, negli Stati Uniti, ma anche in tanti paesi sudamericani, eccetera, i diritti conquistati da gay, lesbiche, persone transessuali e transgender, ma anche per conquistare le conquiste del femminismo e le libertà così faticosamente raggiunte dalle donne. Basta ricordarsi che un'esponente donna della teoria del gender, scusate, della crociata antigender italiana che si chiama Costanza Miriano ha scritto un libro che si intitola Sposati e sii sottomessa. Infine, ecco, anche questo io vorrei insistere che cosa vogliono questi? Secondo me una cosa che vogliono i movimenti antigendere è anche difendere i privilegi delle scuole cattoliche di fronte a una riforma della scuola che sappiamo quello che sta facendo a pezzi il sistema di istruzione italiano, perché loro insistono molto sul fatto appunto della libertà dei genitori di educare i propri figli e di sottrarli a un'educazione statale, quindi forse vogliono vincere, vogliono germanizzare in tutta la società, forse vogliono anche fare salvi dei privilegi che la Chiesa ha almeno nel caso italiano insomma grazie al concordato e grazie ai grandi favoritismi di cui godono le scuole private cattoliche. Ecco, tutto questo, quindi il contrastare i diritti dei gay, delle lesbiche, delle persone transessuali, delle donne, viene fatto in nome dei nostri, dei vostri figli. dei vostri figli. Però, per citare, ne parlavamo anche prima, un articolo che fu pubblicato su Liberazione nel 2013 credo da Beatrice Preciado, chi difende i bambini queer? Cioè, si utilizza il feticcio del bambino per proteggerlo dalla perversione dei saperi omosessuali, omosessualisti come dicono loro, ma chi protegge davvero i bambini che nelle scuole poi vengono presi in giro, bullizzati, malmenati dai compagni perché hanno delle espressioni di genere differenti. Quindi, e noi cosa vogliamo fare davvero rispetto a questi bambini? Io so che poi l'intento è anche di riflettere assieme su possibili mobilitazioni. Ecco, pensiamoci che cosa vogliamo per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i figli dei nostri amici e delle amiche? Vogliamo un ambiente che sia accogliente di fronte a loro eventuali espressioni di genere non conforme agli standard o vogliamo che facciano la fine di Andrea? Ecco, questo movimento sta spingendo in una direzione precisa. Secondo me è arrivata l'ora, è già l'ora perché vedo che c'è anche un esponente esempio della comitata giornata bruna che spero che dopo intervenga, si sono già creati insomma dei comitati di reazione contro questa crociata. Secondo me è l'ora di crearne altre e di creare anche un movimento nazionale per contrastare questa crociata. Grazie. Applausi. 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 Applausi.